Ciao da Nicoletta, mi occupo di formazione da 27 anni, di formazione, sviluppo risorse umane, da un mondo che amo tantissimo. Sono qui perché fra pochissimo ci sarà una delle mie serate preferite e uno dei miei argomenti preferiti, la comunicazione. Quante volte ci accade di dire la cosa giusta nel modo sbagliato e se andassimo a capitalizzare i misunderstanding comunicativi a livello aziendale, pensate a che cifra metaforica si arriverebbe, non solo metaforica, in termini di tempo, in termini di sprechi di energia, in termini di arrabbiature, in termini di magari errori nell'eseguire qualcosa perché c'è stata una cattiva comunicazione, una cattiva comprensione e quindi è affascinante capire come si può comunicare al meglio, anche perché la comunicazione è un passepartout, serve ovunque, al lavoro, in famiglia, con gli amici. Cioè è una delle capacità ed è una delle risorse penso più importanti al giorno d'oggi. E ci sarà anche un'altra parte che io amo molto e mi affascina. Sono molto distante dalla politica perché non la conosco e perché così è una scelta. Mi piace però studiare come ad alti livelli si utilizzino dei gesti, dei linguaggi che sono altamente manipolatori. Solo che la maggior parte delle persone non se ne accorge perché se non lo so e non conosco certe strategie o certe, si chiama ipnosi conversazionali, certi modi di comunicare cosa succede. La mente razionale non coglie, l'inconscio però sì. E quindi andremo anche ad esaminare come ad alti livelli utilizzino proprio l'ipnosi conversazionale, dove per ipnosi non si intende guardami, 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 raggiù cascasella, ma si intende qualcosa di molto più profondo, di molto più attento che incide nell'animo e nel modo di, come si può dire, recepire le informazioni. E quindi ti aspetto comunicazione, come riuscire ad avere una comunicazione più fluida, i non detti, cosa comportano, il misunderstanding e tutta la parte poi sulla comunicazione persuasiva, l'ipnosi conversazionale. Ci aspetto perché avrai da subito strumenti pratici, concreti, che potrai mettere in pratica da ieri, perché io credo molto che la semplicità e l'immediatezza sia la cosa che fa la differenza. Non ci servono mille teorie che poi conosciamo a livello razionale, ma poi a livello concreto non siamo in grado di mettere in azione. Ci serve qualcosa di, come dire, semplice, perché è la semplicità che fa davvero la differenza. A presto, ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti.